Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli. Uno di questi è il cyberbullismo. Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali. Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni. Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale. Impara a proteggerti. Navica sicuro. Grazie a tutti.